per strurare le orecchie togliere il cerume viene così adesso lo accendiamo grazie grazie non muoverlo sì sì grazie un po' più qua viene premuto sembrano fuochi d'artificio grazie ci vogliono circa 5 minuti grazie 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 poi si è finito poi togliamo togliamo piano piano non dire? dire da poco guardate questo è tutto il cerume che non si può togliere con i codonpiocchi solo che ora ce ne andiamo in fondo arrivederci al prossimo video